...pubblico dei tifosi nella cittadella, proprio dietro la porta di Domis. ...dato come aveva pensato Venturato, adesso la spalla compie lo sforzo con il palese aereo, mettissi la punta fresca, due punte fresche, facciamo il ruolo della sicurezza e è andato così. Sotto le gambe di Domis, la conclusione degli iscritti, abbiamo proprio il cuoco, praticamente era un bersaglio domese con Kwame che ha scrittato a pieno la sua note principale, quella della velocità, della capacità anche di controllare in corsa il pallone.